Ed eccolo il famoso abitante dell'isola. Il drago di Komodo è una grossa specie di lucertola diffusa nelle isole indonesiane di Komodo, Rinka e Flores. Appartiene alla famiglia dei Varanidi ed è la più grossa specie di lucertola vivente potendo raggiungere i 3 metri di lunghezza e 70 chilogrammi di peso. Le sue dimensioni inconsuete sono state attribuite al gigantismo insulare dal momento che nelle isole in cui vive non vi è nessun altro carnivoro ad occupare la sua nicchia. Grazie alle sue dimensioni questa lucertola domina sugli ecosistemi in cui vive, cattura le sue prede, invertebrati, uccelli e mammiferi, sia inseguendole che tendendo loro imboscate. Le sue tattiche di caccia di gruppo costituiscono un'eccezione nel mondo dei rettili. La dieta degli esemplari più grandi è costituita essenzialmente da cervi, sebbene consumino anche considerevoli quantità di carogne. Gli scienziati occidentali avvistarono per la prima volta il drago di Comodo nel 1910. Da allora le sue grandi dimensioni e la sua spaventosa reputazione, attacca sovente anche l'uomo, lo hanno reso famoso, ma è anche inserito tra le specie vulnerabili. Gode però della completa protezione da parte della legge indonesiana e per garantirne la sopravvivenza è stato istituito un apposito parco nazionale, il Parco Nazionale di Comodo. Con la sua lunga lingua gialla profondamente biforcuta, il drago di Comodo riesce a localizzare, assaporare ed annusare gli stimoli esterni ed è in grado di individuare una carogna anche a otto chilometri di distanza. Grazie a tutti.